Allora, Sergio Conferati, riparto da lei. Precisamente due anni fa, era il 18 di ottobre del 2017, in un'intervista lei disse, commentando la conclusione dell'accordo tra lo Stato italiano e Arcelor Mittal, che non aveva mai visto tanto cinismo nell'affrontare i problemi di migliaia di persone. Nella questione Ilva non c'è niente di casuale, a Taranto e a Genova si sta consumando un esperimento di carattere nazionale. Insomma, lei fin dall'inizio non credeva nelle buone intenzioni di Arcelor Mittal? Mi spiace di aver avuto ragione, ma d'altro canto bastava guardare a cosa stava facendo da anni quell'azienda nei vari paesi europei per comprendere che era un interlocutore inaffidabile. Qui siamo arrivati, cresce il malcontento, ma peggio ancora, lo scoramento nelle persone che avete appena intervistato e il governo non sembra avere una linea, un orientamento. Ora è costretto a fare a prezzo molto più elevato quello che poteva tranquillamente fare prima, anche perché le alternative c'erano. C'erano imprenditori di altro profilo, anche italiani, che potevano essere coinvolti e invece sono stati messi da parte per fare spazio ad un'operazione di pura acquisizione di spazi commerciali, non di attività produttive. Adesso bisogna avere un po' di coraggio. Lei crede che nel futuro della ciaieria di Ilva, ma in generale, in buona parte del comparto siderurgico italiano, non ci sarà più un ruolo protagonista di questa multinazionale franco-indiana? In altre parole, se ne andranno dall'Italia con le buone o con le cattive? Non so come finirà questa trattativa che si dice essere in corso. Non ho capito esattamente quali sono le proposte del governo, ma che Arcelor non abbia grandi interessi per l'Italia è del tutto evidente. Non so cosa deve fare ancora. Il mercato di Ilva gli interessava, l'ha preso e in quel mercato non è che ci porta l'acciaio che produce in Italia, ci porta l'acciaio che produce anche in altre parti d'Europa, le poche che sono rimaste aperte. Allora, che contesta? Dunque non vedo prospettive particolarmente semplici, neanche meno rose, purtroppo. Allora. Sottolineo purtroppo.